Ciao, benvenuta o benvenuto in un nuovo video ASMR. Oggi ti porto con me in un viaggio per raggiungere un luogo incontaminato, immerso nella natura. Siamo già quasi arrivati, ai lati della strada tortuosa puoi già ammirare il bosco che percorreremo a piedi sull'Etna, il vulcano attivo sito a Catania. Tra poco parcheggeremo l'auto e proseguiremo a piedi sul terreno battuto dalle folle, dai passi degli animali osservatici e dalla vegetazione del sottobosco. Eccoci giunti. L'aria è nettamente diversa da quella che si respira in città. C'è molta frescura data dalla ricchezza di ossigeno spregionato da questi pulmoni della terra. E' il momento di respirare profondamente e lentamente, assorbendo quest'aria pulita e fresca, facendo in modo che l'ossigeno arrivi in ogni cellula del tuo corpo. E' l'anidride carbonica, insieme alle tossine, vengano espulse, liberandoti da ogni peso che porti dentro. La lava e la cenere hanno reso questa terra particolarmente fertile dalla ricchezza di sali minerali. Qui ci sono soprattutto alberi di castagne. Nel periodo tra ottobre e novembre è possibile raccoglierle in grande quantità. Maestosi pini si ercono verso il lipidissimo cielo. Sulle cortecce di alcuni alberi, in ombra, vivono abbracciati, figli di edera e distese di muschio. Il sole penetra attraverso le foglie e raggiunge il sottobosco, in perebbe penombra. Se questo viaggio è stato di tuo gradimento, lasciami un commento, scrivendomi che tipo di luogo naturale vorresti visitare insieme a me. E ti ci porterò. Alla prossima. 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 Alla prossima.